Uno non campa solo per lavorare per il salario. Una persona può avere dei momenti di disagio profondo, oggi capita sovente e non c'è un cane che ti aiuta se non hai reddito. Burnout, mobbing percepito, conflitti fra colleghi, queste le problematiche che crisi economica e crisi sociale hanno acuito. La risposta da parte della struttura pubblica è sempre più esigua e così la CGL ha pensato di istituire un nuovo servizio di psicoterapia gratuito per i redditi bassi e a prezzi calmierati per tutti gli altri. Una decisione che parte da un'esperienza che esiste già dal 2012 e che ha risolto nella provincia di Arezzo 206 casi, nel 70% si è trattato di donne. Il messaggio che vogliamo lanciare è che la psicoterapia debba essere un diritto di tutti e non un privilegio per pochi. A questo nuovo servizio sarà possibile accedere da parte di tutti gli iscritti CGL telefonando ad un numero e prendendo appuntamento. I pazienti verranno ricevuti nel nostro studio in modo tale che anche il setting dell'incontro sia il più possibile neutro rispetto alla difficoltà con cui accedono al servizio. Anche perché il servizio che noi vogliamo offrire è quello di una presa in carico globale della persona e non specificatamente indirizzata alla problematica lavorativa. La problematica lavorativa può essere magari l'input per cui una persona chiede di rivolgersi a un professionista, ma al momento in cui ci sarà il contatto e la presa in carico la persona dovrà sentirsi libera. Vogliamo concretamente dare un contributo mettendo a disposizione, non è nemmeno un servizio, questa opportunità con questo staff di bravissime psicologhe. Quindi sì, la CGL si è messa di fatto in terapia. Penso faccia bene. Grazie. Grazie. Grazie a tutti